Non ci stanno facendo salire, a noi e a altre persone perché non abbiamo il tampone. Scusate, se io ho fatto un serologico, quello pungidito? L'ha fatto, no, serve il test, il tampone rino faringeo. Ah, il tampone rino faringeo, altrimenti non ti fanno salire. Ma scusi, ma ci può parlare con un caposcalo qualcuno? Perché questa è la violazione dei diritti costituzionali 32 e 16. Posso parlare con qualcuno, per favore? Alla sua scala c'è la nostra responsabile. No, ma voglio parlare con un caposcalo. La nostra responsabile, signora. La nostra responsabile. La nostra responsabile di lista d'attesa. Lei, signora, com'è il suo nome? Martani. Senta, mi scusi, io però volevo capire, questa è una violazione dei diritti costituzionali 16 e 32. Prego, signora. Abbiamo anche un accordo con l'USMAC. E che vuol dire? Scusi, questa è una violazione del diritto costituzionale 32, quindi ha non obbligo di dover sottoporsi a trattamenti senza... Scusi? Io devo partire, ho pagato un biglietto, ho un titolo di viaggio. Scusate, io ho il biglietto per questo volo, quindi ho comprato un biglietto. Sì. Eh, no, quindi non voglio rispondere. Non ti rispondo, scusi. Lo sto riprendendo la sua faccia. Sì, però se lo intende a voi, non ti rispondo, sennò chiamo la polizia. No, voglio sapere perché... Quindi viene limitata la mia libertà costituzionale. Voglio sapere perché io sono obbligata a fare un tampone per salire su un volo. E gli altri no, voglio sapere il motivo, me lo dite, per favore. Non mi ha dato nessuna spiegazione. No, me lo devi dare, altrimenti io vi denuncio. A mezzo del tampone, grazie. Io vi denuncio, eh. Denuncio per la violazione dei miei diritti costituzionali. Ok, vi denuncio al Ministero della Salute. Vi denuncio al Ministero della Salute, vi denuncio ai Carabinieri, alla Procura, altro che al Ministero della Salute. Scusatemi, intanto voglio sapere la motivazione, per cui se io ho comprato un biglietto non posso volare, visto che c'è la mascherina e c'è la disponibilità. Allora, si mette la mascherina. Ok, me la sono messa. Posso? No, si deve mettere la mascherina. Che vuol dire non parlare? Che vuol dire non parlare? Si deve mettere la mascherina. Che vuol dire non parlare, scusate.